Devo rifare la domanda? No Mi raccomando, non vi fate anche a loro, non è stessi in funge. In carità, ho anche beccato la gente che mi diceva che sei efficiente, che ti sei fatta in supermario, quando hai 50 anni ho in giro con un armario, con un campo. Cioè, nerd è avere comunque una conoscenza e approfondire un certo argomento che ti appassiona appunto tale da dedicarci la vita. E l'altro? E l'altro? Questo è praticamente l'ultimo che ho fatto, anche più impegnativo. Grazie. 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 Grazie a tutti.